Buonasera ragazzuoli, benvenuti nel canale dei giocastronzi, io sono Alemas, io sono Tarta e siamo su Batman Arkham Asylum, che è il primo ovviamente della collezione che hanno fatto per PlayStation 4 di Return to Arkham. E niente, possiamo iniziare. Perché ci vorremmo tornare ad Arkham, boh! Dio benedetto, non so se sentite l'eventore della PlayStation 4 che stanno esplodendo. No, meglio di no. Adesso si sta plagando, ui il filmato! Filmati molto belli. Da quello che ho capito hanno rifatto il gioco con il motore grafico diverso, però non so quanto sia vero. Diverso, vedremo subito. Mamma mia, quanti anni fa è uscito. Quanti anni fa che la gente aspettava un gioco che non era con le merde di picchiaduro con Batman fatte male. Quelle mezze schifezze. C'è stato però qualche gioco che riuscire a dire. No, The Batman è niente. No, a questi livelli niente. No, vabbè, a questi livelli no, grazie al cavolo. Ci stava uno, mi ricordo, con Mr. Freeze, un gioco dove andavi tipo sui tetti con Batman. C'era tutta la fase pluff. Sì, quella era tipo il bilancio. Vengeance si chiamava un gioco. Me lo ricordavo diverso. Ma che lo abbracciava Batman? Non erano mai così. Me lo ricordavo diverso. Mamma mia, Joker. No, Batman non è assolutamente quella facile. Batman me lo ricordavo diverso nella prima scena. Sai che mi fa? Mi sa che l'hanno rifatto veramente. Spero non sia come il porting di Assassin's Creed 2 o il remake. Insieme per la vittoria. No, non penso. Oddio mio. No, forse era solo un impressione. No, quasi. C'è la Bruni. Ma non lo so, è tipo Batman di colore bianco. Oh, signor, oddio, com'era lui? C'è, ehm, questo posticino. Sharp, sharp. Esatto. Ehi, Frankie, come vanno la moglie e i figli? Mi sono mancato il becco. C'è qui un sacco di gente. Mamma mia, mi riporto in giro, badonna santa. I poligoni fatti così ogni tanto mi fanno impressione, però è bello, bello, bello. Che bello tornare su Arkham Asylum. Sbattete fuori quello schifo di Erelituma. Direttore, c'è qualcosa che non... Ti giuro mi sta, ti giuro mi sta... Non lo so, mi inquieta. Mi inquieta un botto, devo andarmi a vedere dopo un video di Digomero perché io non mi ricordo sti labbroni. È terribile. Ma non c'è... Allora, su Arkham Knight non ce li ha. Sono abbastanza certo perché ci ho giocato non troppo tempo fa. No, però sta... No, non capisco. È qualcosa di sbagliato in tutto ciò. Siamo per rivedere Killer Croc che non c'è in nessun altro Batman, dio santo, anche se era fighissimo. In realtà c'è. No, c'è in Origins. C'è in un minigioco in Arkham City. C'è in un minigioco? Sì. Ah no, scusa, era qua quello delle piattaforme. No, è qua. In Arkham City lo trovi tipo in una fogna tipo easter egg, mi pare. Eh, però non c'è in modo normale. E in Arkham Knight c'è una DLC, tipo dove ci sta. Ah, nel gioco base non c'è, nel DLC non lo so. Ci stava in Origins, però parca puttana. Eh, vabbè. Ma Origin è una... buongiorno. Buongiorno. Origin è una piattaforma della EA. Triggered. Adesso divento ultra super cattivo, Batman mi arresta e poi ci sono i laser. Entro nel manicomio di Arkham e... senti ti giri, te ne sbatti allegramente di quello che dici. Manca... anziché. Fai il pignolo? No, no. Ma neanche Hannibal. No. C'è bisogno di puntargli l'arma addosso. Ma allora... Quello con l'uncinetto, vero? Sì. E come si chiama quello con l'uncinetto? Boh, non te lo ricordi. Salve paziente, direttore del manicomio di Arkham, direttore del manicomio di Arkham. Ma Sherper non stava nel... Sherper sta solo qua, no, ma stava all'altro prima. Ah, io mi immagino lui quando andiamo via, che fa tutta la corsetta, tutto trafilato. Ah, devo andare nell'ufficio. Ma per messaggi pre-registrati, no, no. Messaggi pre-registrati? Non è una cosa in diretta. Ah, dici che... C'era... C'era qualcosa? No. Tanto la gente lo chiama. Con quello sfortunato incendio i miei uomini potevano farsi male. Devo andare a controllare il prigioniero, agente. Già. Con l'incendio? Ma sti veloce. Seguo le procedure. Joker, cosa sta dicendo? Il paziente si presenta in condizioni soddisfacenti. Avrebbe riportato perite minori si ritiene nel... Il dottore pelato. Sembra che ci sia... Beh, va che esagerato, sono. Che burlone! Mamma mia, ci sono due... Deve fare i video su YouTube. Fallo YouTuber! Ci sono delle X sui muri. YouTuber... YouTuber è coso? Coltello a mille gradi usato su un orfanotrofio pieno di bambini. Esperimento sociale. Orfanotrofio. Finito male e battito. Epico! Esperimento sociale e finito male. Senti l'eccitazione nell'aria? Killer. Sei tu? Deve essere stata una delle guardie allora. Rock, vecchio mio... Oh, bello. Dai, ma guarda! Ma lo lasciate così nell'ascensore? Qualcuno doveva entrare con lui a tenerlo d'occhio. Scusate, ma anche... Non è professionale questa cosa. È un arrabbiato. Ecco, vai. Ti vedo che è arrabbiato, guarda che ascensore minuscolo! Madonna santa, mi metto un'ansia a sto tizio. Ciao! In realtà mi vedi, però va bene. Ma io mi uccido prima. Non ti preoccupare... Ok. Ma dove pianti te? Ho visto Croc Swint. In realtà vanno bene quelli. Eh, sì. Ho visto Croc Swint. Ho visto Croc Swint. Ho visto Croc Swint. Gli è uscito un porno. No, farlo youtuber anche lui. Salve a tutti ragazzi! Benvenuti a un nuovo tutorial su come uccidere Batman! Non dove vai tu! Urlando perché sennò non vale la pena. Ho ancora un paio d'assi nella manica da giocare. A proposito, non trovi strano che sia bastato un incendio a Blackgate per trasferire qui qualche centinaio dei miei uomini? Ah, Blackgate è la prigione... Ha sugato tantissimo qua. Sì. Non farei niente. No, dobbiamo aspettare. Ho risposto alla tua domanda? Tutti i pazienti devono evitare contatti con i detenuti provenienti dal carcere di Blender. La loro presenza... Io non posso vederlo Batman. Guarda il profilo! Che cosa? Dai! Da dove sei? Prendi una torcia! Illuminalo! La loro presenza in istituto è temporale. Ripeto... Cosa? Non ti fai difficile? Ti piacerebbe? Il nostro ospede è arrivato. 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 I piani inferiori della terapia estensiva sono... Tan 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 tan... Mamma mia i vecchi suoni. Un gioco spettacolare questo. Imi pensi nel busto è arrivato. Sono tre e mi assicurerò di andare molto più sul pesante la prossima volta. E mi dici di puntare a cento! A ha! Gordon. Gordon Freeman. Gordonmar. Bella gli effetti. Mi piace come l'hanno rimasterizzato. Non si beve in servizio. Quello beveva. Io l'ho visto. Io lo denuncio. Io lo cuorello. Io loovino. bravo come i bambini guarda il medico salì non si rompe no era adesso tipo lei arriva guarda io ho bella sta prigione ora è mia buono dai no please non mi fate la bua scassali di bua bubbti come si faceva combo non stop 5 addirittura perbacco cos'altro si sbam quanto sono belli i combattimenti eh si viene iniziato lagga un po' l'immagine non sai streammare molto bene o bs è un'altra parte il tempo che sia post non scusci oh buono all'ultimo secondo ben oggi è vero adesso non c'avevo i cosi sta sulle palle non c'avevo l'esecuzione no ancora combo non stop 10 eeeh ma allora si e allora si e allora si hm anche tu sei a scatti Gordon ok Gordon Freeman ah no non puoi promessi che non puoi mantenere ma il manicomio è sotto il mio contratto non andrai da nessuna parte se non so voglio volerlo ma sei un vandalo ma sei un vandalo io ti sbatto nelle celle di Arkham mamma complimenti guardate che cura per i dettagli ah e allora perché l'ha deciso lui è questo un joker gentiluomo i denti di joker biografia personaggio sbloccata con il sello Gordon devo fare pure veloce teoricamente si o devi sbloccare ah no cosi era cosi ah ok bom giur che dici dei dentini molto dentoso corridoio di trattamento denti è un contadino joker semina la morte i pazienti sono fregati di assumere i medicinali ogni giorno allora presto ho un po' io ah mi sembrava i denti allarme allarme intruso all livello oh no sei tu l'intruso hello coraci sulle palle un po' di tre quello è morto da un calcio sul collo lì no non è morto batman non uscite nessuno dov'è au ma i piedi di batman si ok allarme intruso a livello B3 uccidilo hey batman da questa parte Eddie allarme intruso a livello cosa è successo ah non saprei joker sei fortunato essere ancora vivo deve essere andato da questa parte la porta è bloccata proverò ad aprirla serve aiuto in sala di pacificazione serve aiuto in sala di pacificazione nessuno mi sente mi sentite sono con batman sono con batman sono famoso facciamo un selfie un autografo no preferisco lavorare da solo senti libero oddio ha preso mai scrim scrim belli i sottotitoli questo è un film mio dio case produttrici vi prego vi scongiuro ve li faccio io i sottotitoli fatele bene le cose fatele bene i sottotitoli dell'italiano oh oracle giocca è scappato dalla custodia gira libero perché ora quali barbara gordo ma allora con una società è una società è una società non sta bene la oracle eh eh non puoi scappare liberalo shhhh no a lei non parla con nessuno sali 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 è come se fosse casa tua questa tarta ecco Saz Victor Saz devi salire ma mi sai di tipo prima parla con sai il tempo parla è un delay a Batman si effettivamente signor Batman faccio qualcosa eh ok ce lo deve dire, ci deve pensare un attimo no, era L1 grazie io ho come la sensazione comunque che fossero cambiati che cambiano i comandi nel coso in quelli dopo sono diversi? eh può essere che qualcosa è cambiato sulle palle? no, sul culo oddio vorasio quanti vivi staranno? salvataggio o shock? boobs le cose chatroulette chatroulette omigol è epico chatroulette finisce male eccolo ci ha il puccio ma che faccia c'ha? io non posso vederlo ma perché c'ha ste labbra così? io continuo a dire che non è non era così originariamente ma perché così schiacciate così grandi non ha senso cos'è una papera? hai una possibilità di arrenderti qui mi costano le cose su non le rompere beh ancora ora sono qui il manicomio di Arkham è sparito dalla rete ha preso il controllo del sistema di sicurezza deve averlo isolato dalla rete di distribuzione e non è tutto secondo la politica che fa quello? dice che le fa esplodere mi guarda me poi guarda lui non sta minaccia ma coso? vittor ma non è lì che lo altervano non importa come fai a saperlo? lo conosco eh quanto costano stimolini è un vandalo proprio di merda sappio a lui pensa di avermi intrappolato qui dentro non è mai stato un tipo brillante e anche quelli che parlano da soli sai perchè non è mai stato un tipo brillante? che non è una lampadina qui finisce risate finte gameplay fine video 1 finito fine finito male epico video 1 finito male mentre ormai c'è sta stronzata video 2 edward nigma video 2 video 2 video 2 cosa ragazzi? un nome no di te cose da la 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 oh no tutti quanti intossiviati ridete 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 strozzi ma non dovresti salvarli tu sei batman noo noo che roba è questa? la tossina di joker ascoltate la stanza è piena di gas velenoso bom io direi che possiamo fermarci qua per il primo gameplay si quindi spero che vi siete divertiti e niente direi che ci vediamo al successivo che sarà il secondo scusa adios ciao ciao